Musica Ben trovati a questa nuova ultima puntata della stagione prima della pausa estiva di Adconsum Informa. Speriamo che a tutti mancheranno i consigli di Adconsum e vogliamo chiudere, fa un gran caldo come Loredana Baldi, fortuna l'aria condizionata possiamo dire oggi, benvenuta. Grazie, sì fortuna il condizionatore. E parliamo proprio di questo con l'aumento dei costi in bolletta, poi Draghi aveva fatto proprio un appunto su questo, quest'estate non potremo tenere accesi i condizionatori a causa della crisi, della crisi di materie prime, della guerra, insomma di questo contesto che stiamo vivendo non felice, i condizionatori però servono, servono perché ci fanno stare meglio. Ormai siamo abituati anche ad affrontare l'estate in questo modo ma possiamo mettere in atto alcune strategie che ovviamente ci dirà Loredana per risparmiare un po', cioè per gestire meglio diciamo poi il costo finale di questo bene che possiamo dire di lusso non è più. Sì, oramai il condizionatore appunto come dici tu non è più un bene di lusso perché sta diventando un bene di massa insomma un po' per tutelarsi dal caldo. Però comunque è un strumento molto utile che però può avere degli impatti importanti sulla nostra bolletta dell'energia e quest'anno soprattutto con i rincari che purtroppo tutti stiamo subendo si stima che ci sarà un impatto di oltre l'80% in più rispetto allo scorso anno sulla bolletta dell'energia elettrica fino a 216 euro in più rispetto allo scorso anno. Questo è quanto è stato stimato. Quindi come possiamo fare per evitare appunto di spendere troppo in energia elettrica? È importante osservare alcune buone regole di comportamento nell'utilizzo del condizionatore. Innanzitutto partendo dall'inizio proprio occhio all'etichetta dell'elettrodomestico. Ricordiamo che c'è una classificazione rispetto proprio al consumo energetico di tutti gli elettrodomestici. Se acquistiamo un condizionatore di classe A o meglio ancora più elevata sicuramente andiamo a risparmiare molto sulla bolletta dell'energia. Considerate che per esempio tra un condizionatore in classe B e un condizionatore in classe A++ che è appunto la classe più elevata c'è una differenza di circa il 30% dell'impatto sulla bolletta. Quindi se io ho un condizionatore A++ quindi ad alta efficienza energetica posso arrivare a risparmiare fino a un 30-40% all'anno appunto rispetto al consumo di energia elettrica. Un'altra cosa importante è nel momento in cui si acquista un condizionatore valutare la possibilità di acquistare un condizionatore che ha una tecnologia inverter. Che cos'è questa tecnologia? Allora è una tecnologia attraverso la quale nel momento in cui il condizionatore arriva alla temperatura impostata il motore continua a lavorare ma al minimo. Quindi rallenta la sua velocità e continua a lavorare al minimo. Quindi non si spegne e riaccende. Questo è utile perché nel momento in cui il condizionatore si spegne e poi si riaccende c'è un elevato consumo di energia. Invece in questo modo il condizionatore mantiene la sua velocità, la temperatura impostata ma lavorando al minimo. Quindi la tecnologia inverter anche qui ci permette di avere un risparmio di circa il 30% rispetto a un condizionatore tradizionale. Altra cosa che va valutata riguarda a quale temperatura teniamo questo importante strumento. Più è bassa la temperatura che impostiamo più chiaramente si andrà ad incidere sul costo dell'energia elettrica che utilizziamo. Quindi no alle temperature polari. Impostiamo la temperatura del condizionatore non più di 6-8 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna. Perché appunto se è troppo basso consuma troppo e andremo chiaramente a spendere troppo. Ancora meglio utilizzare la funzione deumidificazione che comunque ci permette di avere una buona temperatura perché viene assorbita l'umidità. Quindi è ancora meglio avere la funzione, utilizzare il deumidificatore diciamo così. Perché con questi accorgimenti si può arrivare a risparmiare circa un 13% sulla bolletta dell'energia. Quindi se sommiamo tutti questi comportamenti virtuosi possiamo veramente riuscire a tenere sotto controllo le nostre spese per l'energia elettrica. Infine facciamo molta attenzione a non disperdere l'aria fresca no? Diciamo il fresco è importante chiaramente se il condizionatore viene utilizzato tenere le finestre chiuse. Possibilmente evitare il più possibile di fare entrare il caldo dall'esterno. Quindi magari anche abbassare le tapparelle o chiudere le persiane. Perché tutti questi sono degli schermi che servono appunto ad impedire che entri il caldo. Magari tenere anche chiuse le porte delle stanze, delle altre stanze nelle quali in quel momento non abbiamo bisogno di rinfrescare. Perché tutto questo fa sì che appunto l'aria più fresca non si disperda. Ma resti concentrata nell'ambiente in cui noi siamo in quel momento e anche qui possiamo quindi chiaramente ottenere una importante riduzione del costo insomma nell'utilizzo del condizionatore. Una cosa che spesso viene sottovalutata è la pulizia dell'impianto. L'impianto di condizionamento o meglio l'apparecchio, il condizionatore deve avere una sua manutenzione. È importante che ci sia una corretta pulizia dei filtri quindi che i filtri vengano puliti periodicamente. Perché un condizionatore pulito e ben tenuto funziona molto meglio rispetto invece ad un condizionatore in cui appunto i filtri sono sporchi. E i filtri sporchi comportano anche un dispendio di energia che non serve. Per cui avere invece una buona pulizia dell'impianto anche in questo caso ci permette di risparmiare circa un 8%. Per cui ecco da una parte possiamo risparmiare il 30, da una parte il 13, da una parte l'8, da una parte il 6. Però sono tutti consigli che se messi in atto insieme ci permettono anche qui di essere consumatori consapevoli come la parola che spesso utilizzo io. E utilizzare correttamente quell'impianto per ottenere il giusto risultato che è quello di stare più freschi. Ma senza dover spendere insomma importi elevatissimi per le bollette. E quest'anno ha maggior ragione, magari potremmo sentire meno il caro bollette se stiamo attenti. Molto importante comunque la pulizia dei filtri anche per la qualità dell'aria che poi respiriamo in casa. Ormai la mascherina ci ha abituato a sentire di più, ad avere ovviamente anche le narici più fini rispetto a come era prima. Quindi stiamo attenti, mettiamo in atto sempre, quello lo diciamo, tutti i consigli di Consum per essere io direi anche consumatori intelligenti. Sì, perché basta veramente poco. Con questo argomento legato all'estate chiudiamo qui la stagione per la pausa estiva. Ma riprenderemo come sempre Loredana a settembre e vi aspettiamo per questa collaborazione ormai annale con ETV Marche. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, arrivederci a settembre. E a voi ovviamente do appuntamento a settembre. A presto. Grazie a tutti.